adorati eccomi qua la marchese di mondragone vi voglio sempre raccontare storie nuove che mi succede tutti i giorni stamattina mi ha chiamato il caffone lo sapete no un caffone un amore d'amici e amore tu sei la donna della mia vita io sono la donna della vita tu in domenica proprio no fra pochi giorni è san valentino e dobbiamo festeggiare ti ho affittata mataluna e valli mataluna una scena tutta a base carne e poi devi portare anche una sorpresa la sorpresa a me e che sorpresa fai tu i caffone fanno le sorpresi e voglio tenere il caffone con questo mi ha chiamato il gruppo dopo ah no mi viene san valentino è già affittato a cusilpa nuvolanza tutta a base pesce e ora ti ha decidere dove voglio andare sia a base pesce o a base carne ti voglio confessare una cosa io veramente avevo il caffone e se la sa ma mi fa una pena come ce la fa voglio decidere che voglio fare poi vi faccio sapere ciao ciao